Ogni anno si registrano 7-8 nuovi casi nel Lazio. Attualmente nella regione colpisce oltre 150 persone. L'atrofia muscolare spinale, detta SMA, è una malattia genetica che compromette la salute dei motoneuroni, facendo perdere progressivamente la forza muscolare e le funzioni motorie. Con la SMA si nasce, ma può manifestarsi anche in età adulta, pertanto è fondamentale riconoscerne i sintomi. L'asma si riconosce molto più facilmente nelle forme gravi del bambino, con più attenzione nelle forme dell'adulto, ma è sempre caratterizzata da due sintomi importanti. L'atrofia, quindi la perdita di tono del tessuto muscolare e la debolezza. La debolezza muscolare si sviluppa soprattutto a livello delle porzioni prossimali, diciamo noi, quindi più cingolari delle gambe, delle braccia. La persona sviluppa sempre difficoltà a camminare, difficoltà ad adarsi da una sedia, difficoltà a correre o comunque ad attività degli arti superiori, quindi a sollevare le braccia per prendere qualcosa di posizionato in alto. Sono dei sintomi anche facili da riconoscere per un paziente adulto, che sono un allarme per indagare di più. L'Unione Italiana lotta alla distrofia muscolare e assiste le persone affette da SMA con una serie di attività fondamentali. Facciamo diverse attività, in sostanza parlerei soprattutto della prima di queste, che è l'attività riabilitativa, la presa in carico riabilitativa che è fondamentale per i pazienti COSMA e che viene svolta in una modalità completamente accreditata col sistema sanitario regionale. Significa che è completamente gratuito tutto questo per l'utente, cioè noi lavoriamo col sistema sanitario regionale e facciamo in modo che l'utente riceva o qui in ambulatorio o presso il domicilio un terapista altamente specializzato o più terapisti altamente specializzati per questa malattia. Oltre a questo, e a parte del percorso riabilitativo, promuoviamo quello che ci piace chiamare follow-up multidisciplinare. Significa che noi in queste malattie dobbiamo fare attenzione e tenere sotto controllo tanti sistemi, tante discipline, quindi fare dei controlli respiratori, cardiologici, della deglutizione, seguirle nel tempo per poter prendere le misure idonee. Un emozionante podcast di 14 puntate è stato inoltre realizzato per far conoscere a tutti la malattia da voce al libro di favole intitolato Lupo racconta la SMA, illustrato dall'Istituto Europeo di Design.